Il Festival di Corti Teatrali a qualcuno piace in breve, arriva alla terza edizione, quali le novità di quest'anno? Quest'anno tante novità, una location in più, il Teatro Pietro Aretino, famoso come Teatro Bicchieraia, tante nuove collaborazioni alla Compagnia Nata, la Rete Teatrale Aretina e il patrocinio della Regione, che comunque ci dà il segnale che stiamo crescendo come realtà. Tanti artisti parteciperanno da tante parti d'Italia diverse, qual è il programma di queste giornate? Allora, intanto gli appuntamenti sono 7 maggio, 14 maggio, 21 maggio e 28 maggio. Gli artisti e compagnie da tutta Italia, da Torino a Napoli, passando per Roma, Prato, Genova, insomma, tanti artisti, comunque sono 12 corti selezionati perché è un concorso rivolto a giovani compagnie di teatro di ricerca, che devono presentare un corto dalla durata massima di 15 minuti originale, con la serata finale che prevede una premiazione, un premio di 400 euro al miglior corto, una menzione speciale in collaborazione con Unicop Firenze, sezione soci anche di Arezzo, che invece è un premio in libri di teatro e una menzione speciale data dalla giuria popolare presente quella sera il 28 maggio in sala. In continuità con il progetto Notte in Breve, uno spazio dedicato anche agli spettatori. Mentre l'anno scorso erano impressioni scritte rispetto ai corti che avevano visto, quest'anno facciamo un vlog curato anche da Francesca Campigli e dalla nostra associazione Rumor Bianco e quindi a fine serata gli spettatori potranno dare delle impressioni a caldo tramite dei video su tre temi che abbiamo dato noi, quindi drammaturgia, interpretazione e regia. E quindi ci sarà proprio un coinvolgimento a 360 gradi di tutti coloro che parteciperanno.